Ciao a tutti e ben ritrovati. Dopo avervi presentato il nuovo top di gamma della Huawei, ovvero il Mate S, del quale trovate il link al video qui in sovraimpressione, oggi affrontiamo un altro smartphone della casa cinese, questa volta però di fascia media, ovvero il G8. Sicuramente più economico del Mate S, però questo non significa dover rinunciare per forza al design e alle prestazioni. E allora scopriamolo insieme. La confezione, come è tipico di Huawei, è molto molto curata. E nonostante il G8 non sia un top di gamma, non hanno fatto sconti all'eleganza e al design della confezione. Una volta aperta troviamo quindi lo smartphone incastonato, come sempre questa fessura, mentre nelle due scatole apriamo per prima questa. Da una parte troviamo il pin per l'apertura degli alloggiamenti SIM scheda microSD, che vedremo anche più avanti, l'alimentatore da 2A, il cavetto microUSB e poi le cuffie. Nell'altra scatola, più piccola, ci sono invece manualistica e garanzia. Ecco qui il nostro G8. Bel design, pulito e tonneggiante. Scocca in alluminio, unibody, display Gorilla Glass e due fasce di plastica, una superiore e una inferiore sul retro, a proteggere le antenne. Sono queste le caratteristiche estetiche più evidenti di questo che in realtà può essere considerato a tutti gli effetti un phablet in quanto a dimensioni 152 x 76.5 x 7.5 mm e un peso di 167 grammi. Il display, protetto come abbiamo detto da un Gorilla Glass, è un IPS da 5.5 pollici full HD, quasi non a bordi ed è leggermente curvo ai lati. Sul lato sinistro troviamo l'alloggiamento per la doppia nanoSIM o in alternativa nanoSIM più microSD. Ve lo mostro. Per prima cosa prendiamo il nostro PIN e accediamo al vano. Una volta aperto, come potete vedere c'è un doppio alloggiamento e qui possiamo scegliere se inserire due nanoSIM oppure una sola nanoSIM in questo mano e magari una microSD in quest'altro. Richiudiamo e ci spostiamo sul lato destro. Troviamo ovviamente il bilanciere del volume e il tasto di accensione e spegnimento. Ancora in basso, connettore microUSB centrale e ai due lati la cassa audio e il microfono. Parte alta con jack auricolare e secondo microfono per riduzione del rumore. Concentriamoci ora sul fronte. Partendo da sinistra in alto abbiamo la fotocamera anteriore da 5 megapixel, poi il sensore di luminosità, la cassa auricolare e un LED indicatore di stato situato in questo spazio. Ci spostiamo sul retro. Abbiamo il flash LED dual tone, la fotocamera posteriore da 13 megapixel leggermente rialzata dalla scocca e immediatamente sotto il lettore biometrico di impronte digitali. Posizione identica a quella del Mate S e anche questo è sensibilissimo al tocco e molto reattivo. La zona intorno alla fotocamera è l'aria NFC. È arrivato il momento di accenderlo e nel frattempo vi do un po' di dati tecnici. La versione che abbiamo provato è un dual sim ma in commercio esiste anche una versione single sim quindi praticamente come abbiamo visto supporta due nano sim nei due alloggiamenti oppure una nano sim e una micro osd di espansione memoria che tra l'altro è di 32 gigabyte espandibile a 64. Il processore è un Qualcomm Snapdragon 615 octa-core con 3 gigabyte di RAM. Per quanto riguarda il comparto software questo G8 monta Android 5.1 Lollipop personalizzato con la versione 3.1 di Emotion UI molto simile a quella già vista sul Mate S per cui vi rimandiamo alla video recensione per tutti i dettagli e trovate il link anche nel box informazioni in basso. C'è da dire comunque che il connubio tra dotazioni hardware e software lo rendono davvero fluido nell'utilizzo qualunque applicazione immediata ed anche giochi impegnativi sono gestiti in maniera egregia. La navigazione web è veloce e scorre senza intoppi anche facendo scatti veloci sul display non si perde d'animo e non si rallenta mostrando anche colori vividi e lucenti. Due parole sulla batteria che è da 3000 mAh e che permette di arrivare ad un giorno e mezzo almeno di utilizzo. La fotocamera posteriore abbiamo detto è da 13 megapixel con flash led dual tone ed apertura focale f 2.0 quella anteriore è invece da 5 megapixel mentre i video sono girati a una risoluzione di 1080p. Tra le funzioni più particolari della fotocamera troviamo Yumi per fotografare i cibi e in particolare i primi piatti per renderli ancora più stuzzicanti. Una funzione molto social che cavalca l'onda di un trend sempre in salita quella appunto di postare i piatti che si mangiano anche a costo di farli raffreddare. La funzione bellezza come si intuisce serve invece a migliorare le foto soprattutto del viso quindi utile soprattutto per i selfie. A proposito di selfie da segnalare la funzione trucco una vera e propria seduta di make up che vi permette di scegliere il look più adatto alla foto. Funzione molto poco utile a noi maschietti ma il tornaconto è quello di fare felici le nostre ragazze. Troviamo infine ormai la classica modalità timelapse. Se guardiamo invece alle impostazioni della fotocamera troviamo la possibilità di scattare foto panoramiche foto in HDR o con l'aggiunta di una filigrana. C'è anche la modalità all focus che ci permette in pratica di non dover prestare troppa attenzione a quale punto dell'immagine mettere a fuoco perché sarà possibile scegliere successivamente l'area di messa a fuoco semplicemente toccando il punto desiderato. Comunque nel complesso una buona fotocamera come si vede dagli scatti i colori sono realistici lo zoom è ottimo e le foto non perdono di dettaglio. In definitiva a noi il G8 è piaciuto veramente tanto un ottimo rapporto qualità prezzo un bel design, cura dei materiali e soprattutto un buon comparto fotografico. Come sempre però vi invito a scriverci le vostre considerazioni qui sotto per acquistarlo www.vitecno.it Ciao, alla prossima!